Al via a Pordenone la ristrutturazione degli storici magazzini del lavoratore, dove traslocherà Idrogea. La riqualificazione dovrebbe essere conclusa a maggio prossimo in modo che a giugno la partecipata idrica del comune possa trasferirsi. Una scelta azzeccatissima da parte di Idrogea che abbiamo condiviso fin dall'inizio. Significa non pagare più affitti, investire per una sede propria e quindi risparmiare, conseguentemente risparmiare i soldi dei cittadini e contribuire alla riqualificazione edilizia urbanistica della città recuperando un immobile che ha anche un pregio storico. Quindi tanti elementi positivi per una città ancora più bella. L'edificio, abbandonato da anni, è parte dell'identità portenonese. Il recupero lo restituirà al suo antico splendore e stile razionalista. Ci inseriamo in quello che è lo slogan che per 5 anni, da 4 anni sta accompagnando Pordenone, è una Pordenone che cambia, nella quale noi abbiamo avuto la fortuna di partecipare con un progetto ambizioso e con, diciamo così, il concreto risultato ottenuto che consiste in una patrimonializzazione dell'azienda in termini veramente concreti. Il restyling dei magazzini si inserisce nel contesto della riqualificazione di Piazza Duca d'Aosta, dove verranno piantati alberi e siepi. Piazza Duca d'Aosta è quasi conclusa, l'unica parte che resterà esclusa e che sarà realizzata contemporaneamente proprio ai lavori dell'edificio da parte di Idrogea sarà proprio la pavimentazione e l'aiuola antistante la stessa, però nel frattempo procederemo a breve con l'abbiantumazione appunto del verde e la conclusione dei lavori per quanto riguarda gli asfalti e la segnalettica.